Ormai la decisione dell'arbitro Ciamberlini è presa. La palla è stata scagliata verso la porta da Dio Tallevi e a non più di due metri dalla porta è stata intercettata con un braccio da Andreoli. Nessuna esitazione però per l'arbitro, che ha concesso al Venezia la massima punizione. I 10.000 spettatori del Sant'Elena seguono con il fiato sospeso l'esecuzione del tiro. Data l'importanza dei due punti in palio, forse determinanti nella lotta per il titolo italiano nella stagione 41-42. Ed ecco Alberti, che sistema il pallone sul dischetto, al centro dell'area di rigore. Siamo al 22esimo del primo tempo. Grande occasione per i nero 20.